È uno spettacolo molto scoppiettante, pieno di conigli, di acrobati, di attori, di danzatori, quindi estremamente fruibile da tutti, dai bimbi e dagli adulti. Le straordinarie avventure della piccola Alice, liberamente ispirato al romanzo di Lewis Carroll, sarà lo spettacolo che vedrà la collaborazione tra il Teatro Verdi di Firenze e il Teatro Petrarca di Arezzo. Uno spettacolo originale di venti lucenti che torna in scena insieme all'orchestra della Toscana. È molto divertente, ma anche molto struggente a mio parere, perché è la vera storia dell'Ice Liddle, che nel romanzo non c'è, ma invece nello spettacolo sì, e del suo incontro con questo personaggio straordinario che era appunto Lewis Carroll, il quale dedica il libro alla bambina, che poi crescendo, chiaramente rincontrerà il romanzo in un altro momento della sua vita molto particolare. Quindi non vi voglio svelare il finale dello spettacolo e vi aspettiamo al Teatro Verdi e al Teatro Petrarca. Lo spettacolo che vedrà il debutto al Teatro Verdi di Firenze il 3 e 4 marzo e arriverà al Teatro Petrarca l'8 e il 9 di marzo, vedrà tra i protagonisti anche gli studenti del liceo coreutico Piero della Francesca di Arezzo. L'alleanza tra l'amministrazione comunale, la Fondazione Guido d'Arezzo, la Fondazione Inturre, la neonata Fondazione Arezzo Comunità, ovviamente Fondazione Cassa di Risparmio, Ventilucenti, il Comune di Firenze, insomma tutto questo sta a dimostrare che stiamo dando una spallata a ciò che ci ha bloccato e ripartiamo da dove è giusto ripartire, cioè dai ragazzi, dalle scuole, da quei luoghi che sono lievito e cemento di una grande coesione sociale. Sono state dedicate ad Arezzo 120 mila euro dalla Fondazione CR Firenze, credo che sia uno degli importi più importanti di tutti i tempi, per progetti in città e la Fondazione Guido d'Arezzo è passata da contributo ordinario a contributo istituzionale, che è il contributo che la Fondazione riserva senza dover far domanda a quelle istituzioni che sono più credibili in Toscana. E per la Fondazione Guido d'Arezzo un altro grande punto di orgoglio. Il suo attuale e giovanissimo direttore artistico, il violinista Giovanni Maria Zanon, ha suonato alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Pechino. Come potete immaginare è stata una soddisfazione, perché Giovanni Maria Zanon da qualche anno si occupava dello Youth Festival, quest'anno è diventato a tutti gli effetti il direttore artistico della Fondazione Guido d'Arezzo per quanto riguarda le attività concertistiche. Non sapevamo che il destino gli avrebbe riservato questa presenza a Pechino. Certo, quando l'abbiamo visto sapevamo che faceva la cerimonia di chiusura ed è stato emozionante vederlo suonare e accompagnare l'inno e la bandiera che faceva il passaggio di consegna fra le Olimpiadi Invernali a Pechino e quelle che saranno a Cortina Milano fra quattro anni.